e avrei un desiderio seconda corsa premio Lamia LB un miglio per anziani a reclamare sono solamente in sei al via con numero uno Salmon Rock con Enrico Bellè in veste di catch il due TTB Power Marco Altobelli il tre tre Zorlaggi Gino Panico il quattro Tuono Fez nel frattempo c'è stato in allineamento l'errore di Tina Foto SM che rimane fuori corsa e gli altri sono Tuono Fez e Tony Pride la macchina stacca ed è già largamente in evidenza il numero tre di Tresor La che conduce su Salmon Rock poi TTB Power all'esterno Tuono Fez con Salmon Rock che subito sposta l'ascia di Tresor La e va a chiedere strada in coda al quintetto dei superstiti c'è Tony Pride probabile via libera per Salmon Rock da parte di Tresor La così è infatti al termine della prima della curva Salmon Rock leader e affronta ora la retta di arrivo per il passaggio davanti alle tribune vi ricordo che oggi forte vento contrario di Scirocco proprio sulla retta delle tribune quintetto dei superstiti in fila indiana molto allungata con Salmon Rock che completa i 600 iniziali in 46 seguito da Tresor La TTB Power Tony Pride e in coda a Tuono Fez gradua ora a piacimento Enrico Belen Salchi al battistrada che completa il mezzo miglio in 1,2 abbondante ora presumibilmente si tornerà ad accelerare con la complicità del vento a favore sulla retta opposta all'arrivo 16 e mezzo il primo chilometro frazione più veloce infatti ora con Salmon Rock a precedere Tresor La TTB Power Tony Pride e Tuono Fez posizioni che non cambiano anche quando si giunge al paletto di 1.200 in 1.36 Salmon Rock in accelerazione in vantaggio su Tresor La TTB Power e Tony Pride Salmon Rock in vantaggio Tresor La nella sua scia poi Ttb Power Salmon Rock che allunga Tresor La che cerca di tenere la scia Ttb Power che si affaccia all'esterno fa lo sprint per il posto d'onore perché Salmon Rock sembra intangibile leader lungo la corda invece trova il varco Tony Pride nel finale Salmon Rock in vantaggio Tony Pride ha trovato il varco buono e riesce a essere secondo su Ttb Power mentre Tresor La cala ed è quarto 1.6.2 l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle 2.1.4 sul mio cronometro che significa media di 1.15.9 per il favoritissimo Salmon Rock 1.13 addirittura la quota finale per l'allievo di Nicola Citarella affidato oggi ad Enrico Bellei che ha vinto con una certa disinvoltura bello sprint in corda per Tony Pride e Vincenzo D'Alessandro che riesce ad anticipare le mosse di Ttb Power per il posto d'onore 1.6.2 l'arrivo ufficioso della seconda di Capanelle di Capanelle